Mattia Notari, un ritorno per il Parma al torneo SELIS, che emozione è ricevere questo premio? Una grande emozione e un grande senso di gratitudine per questo riconoscimento dell'organizzazione in una cornice fantastica. Sono orgoglioso di rappresentare una società comunque giovane che ritorna dopo qualche anno a questo torneo internazionale. Con quale ambizione? L'ambizione è di onorare il torneo da un punto di vista sportivo, però di far vivere a questi ragazzi un'esperienza fuori di casa di grande qualità. Un torneo SELIS, che quest'anno ha anche una squadra che proviene dall'Argentina, sempre in crescita. Qual è poi l'obiettivo sportivo, ma l'obiettivo proprio dell'esperienza? Penso che in un momento storico in cui ci sono poche idee, pochi investimenti verso il settore giovanile, è veramente importante questo segnale dato dal torneo SELIS. Perché credere in questo movimento, dare l'opportunità ai ragazzi di varie nazionalità di incontrarsi, non solo in campo ma anche fuori, per scambiare momenti di socialità, è una grande opportunità. Quindi la missione di noi responsabili di stare giovanile è non concentrarsi su di una vittoria in campo, ma su dei momenti di crescita che possono essere a 360 gradi. Grazie e complimenti a Mattia Notari, Parma. Grazie e viva il SELIS.